buongiorno benvenuti nel mio canale premetto che non sono un grandissimo esperto di grafica però dopo anni e anni di pratica un pochino ci capisco e magari mi arrangio è stato chiesto se si poteva fare un tutorial su come eliminare il doppio mento io faccio vedere quello che sono riuscito a fare questa è l'immagine iniziale questa è l'immagine vedete qualcosa insomma di miglioria sono riuscito a ottenerla e adesso vi faccio vedere come procedere si apre l'immagine da cui eliminare il doppio mento e si va sullo strumento selezione mano libera così e si imposta si crea una selezione sul doppio mento diciamo ecco questo dovrebbe essere la fine del mento più o meno e questa è quella la parte da modificare questo è più o meno il doppio mento da eliminare dopo averlo selezionato alla fine vedete si crea una selezione si va su strumenti trasformazione trasformazione warp dopo essere andati su trasformazione warp e qui si impostano le dimensioni del pennello vedete questo è un pennello la durezza magari si mette bassa perché si vuole lasciare un po' di morbidezza forza lo stesso adesso qual è l'obiettivo l'obiettivo è quello di spingere il doppio mento sotto il mento lo si fa come vedete c'è una crocetta con una crocetta si spinge il doppio mento sotto il mento ci vuole un po' di pazienza poi chiaramente si creerà una nuova piega del mento naturalmente io potevo essere un po' più preciso ma l'importante è il concetto dopo che abbiamo fatto questa operazione andiamo su seleziona niente è già il risultato e mi sembra piuttosto buono però per migliorarlo ulteriormente si sceglie lo strumento cerotto eventualmente per togliere delle macchie di impurità che possono essere rimaste sul collo quindi si tiene premuto CTRL si seleziona in un punto in cui non ci sono impurità come questo per esempio si clicca e quindi si è selezionata questa parte e poi si clicca ripetutamente nelle zone da depurare da eventuali macchie poi chiaramente si va sullo strumento sposta e questo è il risultato andiamo su file apri e apriamo l'immagine originale questa è l'immagine originale e questo è il risultato come vedete non si fanno miracoli però insomma si migliora sicuramente la situazione per salvare le immagini probabilmente sapete già come fare ma in ogni caso ve lo ripeto si va su file esporta come si mette doppio mento riparato quindi si lascia jpeg si sceglie la cartella di destinazione ho scelto la cartella download si va su esporta quindi nella finestra successiva si mette la qualità al massimo e quindi si va ancora su esporta per esportare l'immagine in jpeg depurata dal doppio mento questo è il doppio mento e qui non c'è più come vedete un buon risultato e questo è tutto alla prossima volta grazie a tutti